Nessun licenziamento fino a settembre 2018 e ritorno alla capacità fusoria del rame nel sito di Fornace di Barga. Sono questi punti salienti dell'ipotesi di accordo per il gruppo KME, siglata a Firenze tra sindacati e azienda. Pur avendo quantificato in 355 gli esuberi del gruppo, la multinazionale si è resa disponibile a ricorrere ai contratti di solidarietà e a trovare soluzioni di ricollocazione interna e esterna di eventuali esuberi fino alla fine della durata dell'accordo. Fino a settembre 2018 quindi non ci saranno licenziamenti. Verrà comunque aperta una procedura di mobilità su base volontaria e incentivata presso tutti i siti del gruppo. L'accordo prevede il ritorno alla capacità fusoria del rame nel sito di Fornace di Barga, con un investimento di un milione di euro per convertire a rame un forno primo utilizzato per lo zinco, con un primo step produttivo di 25.000 tonnellate e un secondo fino a 45.000. Allo stesso tempo vengono confermate le emissioni produttive di Seravalle-Scrivia e del Centro Servizi di Firenze. Adesso l'ipotesi di accordo sarà sottoposta dai sindacati al voto vincolante dei lavoratori, che saranno portati a conoscenza con assemblee specifiche che si terranno nei vari siti produttivi nella prima settimana di luglio.